Allora ragazzi, volevo fare avanti un altro, no, questa la tagliamo? No, non la tagliamo, scusate ragazzi che vi spiegherò tutto dopo, allora, oggi Maxi Sosom ha pubblicato una nuova recensione e ci volevo reagire, il problema è che ragazzi io sono stanco, questo è perché ho fatto lo sbaglio di prima sicuramente, sono veramente stanco, ragazzi, io ho iniziato a dormire, io mi sono svegliato alle 3 e poi non ho più dormito, veramente ragazzi, quindi giochiamo un po' davanti un altro, che sicuramente, vabbò, iniziamo, come è morto con modo, ok, come è morto Vespasiano, ok, Dio, le ho buttate tutte, ok, in quale regione è nato Guido d'Arrezzo? Toscana? Ok, Paganini, Lombardia, Sicilia, come faccio? E chi cacchio è sto è, sto coso qua? Con cosa nel 2006 Sandro Veronesi vinse il premio strega? Io non lo so, quindi le buttiamo tutte e sono riuscito ad indovinarle in qualche modo, L'Argentina è attraversata dall'Equatore? Sì, con quale paese? Il Brasile? 50.000 buttandole e alla fine sbaglio le domande sull'Argentina, E che io non so i confini, quindi non posso saperlo, ma ragazzi, ma facciamo una Wikipedia Speed Race, tipo, prendiamo alcuni dei miei amici e faccio una Wikipedia Speed Race con loro, sarebbe bello, Leonardo Da Vinci era figlio di una Conte, Pavarotti era figlio di una Sigaraidica, ok, un Bortovossi, ok, Ok, vi rappresentate a Krypton e Dave King, ma, vabbò, perché no avete premiato l'Occhia a Salvatuscia? Non voglio fare, allora, non voglio insultare nessuno, Non lo seguo il tennis, vabbò, qual è il nome di Tsubasa? Osara? Ok, sette sono le sfede del Daga, quale parza? Sayan, vabbò, io ragazzi so abbastanza informazioni sugli anime, In che regione si trova la città di Viterbo? Lazio, Trapani, Sardegna, no, Potenza, Veneto, io non lo so, Che voce, che canto cringe, il violino ha sei corde, è vero? Sì, ma ne aveva, che animale serve, cavallo, what? Che si dice, Paganini non ripete, ma perché Niccolò Paganini non ripeteva? Perché improvvisava, in realtà, vabbò, l'ho buttato, ok? Dopo parliamo di una mia apparizione, dai, il fumettista Matt Groen, ehm, per non c'è, se... Quanti cacchio, ma quanti cacchio di anni 60, ma sembra più giovani in realtà, Quella è stata la prima, ad oggi, unica parola pronunciata da... papà? Vabbò, in pratica tutti i bambini lo devono dire almeno una volta, papà, cioè, proprio per legge, dai, che ci manca poco, Se a Roma qualcuno ti fa la cresta, significa che hai levato il berretto, il cirà... Io non lo so, io non so il dialetto! Come si chiama il giocattolo preferito da Bart nella sua infanzia? Mr. Crusty Quanti dollari vale l'anima di Bart? 5 dollari Qual è l'indirizzo preciso di... Allora, la saliva protegge dalle carie, favorisce la digestione e contiene un antibatterico naturale Ugì, papà, le putto, tanto io non so niente Quale città è la capitale dello stato? Georgia, Atlanta, Idaho, Boyce, Illinois, Springfield Non era Chicago Chicago Come l'ho detto però, Chicago Barcellona Manchester No, non volevo fare il gioco finale Volevo fare il gioco normale Io non lo seguo il tennis, quindi le putto Quando venne osservata per la prima volta la fa 59 Sulla luna è stata riscontrata la presenza di acqua Ok, la luna che cosa è per la terra? Una stella Ok Sulla luna è una... Meno setta Ok Quella... Io volevo sapere... Io mi ricordo che c'era... Yes! Dai che arriviamo al gioco finale Già al primo round, vai Ok, sta a me Ragazzi, io sono... Sono felicio E... Dai L'adrenalina Mi serve l'adrenalina Vai Ok Cent'anni o mezz'ora Ron canta Vorrei incontrarti tra cent'anni Non la conosco quella cazzola Cattiva parte o buona parte Qual è il vero cognome di Napoleone primo? Cattiva parte Messino-Gibilterra È più largo lo stretto di Gibilterra Io non lo conosco Domani o ieri Cosa vuol dire yesterday? Domani 9 o 7 Quale numero è primo? 9 Ok Spagnolo o greca Maria Callas era? Spagnolo... Ok, ok Scusate ragazzi Se ho avuto il modem Pertolino o De Sica Qual è il nome del comico romano? De Sica Coca-Cola o Fanta Qual è di colore arancio? Coca-Cola Gorgolo o mascarpone Cosa c'è del tiramisù? Mascarpone E cazzarola Io non mi piace queste Ok Messina Domani 9 Spagnola De Sica L'avevo già risposta Fallendo Vabbò 0 0 3 Quante medaglie ha conquistato Ha conquistato l'Italia 0 17 o 14 Sconfitta Italia a Caporetto Era il 14 Software o monete Di che cosa si occupa la numismatica? Monete? Ok Un atto che ragazzi Ve lo ricordo C'ho l'handicap Del fatto che Che io non abbia dormito bene Quindi scusate Se io gioco Diciamo Così Male Venere o Marte Qual è il pianeta conosciuto Come il pianeta rosso? Venere Gianluigi o Gianluigi Qual è il nome di Buffon? Luigi Neko Ken Chi dei due canta? Ken Corto o caldo In un celebre film A qualcuno piace? Corto Mango o cocco Quale frutto cresce sulla palma? Mango Avanti o indietro Inserendo la retromarcia Si va? Avanti Il tago Il panaro Quale fiume scorre la Lisbona? Il panaro Ciraffo Ippopotamo Mozart o Beethoven Quale grande musicista Nacqua Bon Mozart 175 mila euro Salviamoci sto punteggio Cosa c'è? Che Ok Ragazzi veramente Due episodi di Ragazzi veramente Abbiamo ottenuto Una delle La vittoria più grande Che io abbia mai avuto Su Su avanti un altro Proprio Io non avrei mai saputo Di riuscire a vincere Wow incredibile Wow incredibile Ragazzi Chi è Chi è il numero uno? Elama Elama Ovviamente dico Elama Perché Perché Due miliardi Ragazzi Sto qua Ha ottenuto Tutta l'informazione Io sono Nel frattempo Al posto Numero 16 1521 Ragazzi Proveremo A raggiungere Il numero uno Vabbè Nel frattempo Ci vediamo